ariete la giornata si svolge sotto il buon influsso lunare che vi inclina al positivo all'umore brillante e oscura i possibili disagi dettati dal sole in opposizione foriero di un po di stanchezza toro approfittate di questo momento dinamico e favorevole alle comunicazioni sono possibili incontri novità nei vostri programmi e una rinnovata passione in amore gemelli la fase che state attraversando richiede pazienza e l'abilità nel sapervi organizzare molte questioni non scivolano come vorreste confidate nella vostra capacità di adattamento cancro il periodo è effervescente e vi vuole attivi emergono buone occasioni per cambiare una situazione che non gradite e l'amore veleggia verso atmosfere sensuali leone luna e sole in angolazione armonica consentono un buon equilibrio interiore l'emotività è appagata da sensazioni di fiducia e consapevolezza delle proprie risorse vergine grande momento per voi una bella dose di energia mentale vi induce a pianificare e proporre molti progetti siete desiderosi di confronti e anche i sentimenti sono spumeggianti bilancia il sole transita nel vostro segno e aggiunge al periodo una bella forza vitale le iniziative vanno a buon fine e potete aspettarvi di essere nel posto giusto al momento giusto scorpione è una fase movimentata che vi favorisce nelle questioni di lavoro nelle collaborazioni e negli incontri con persone che possono risultare importanti per raggiungere un obiettivo che vi sta a cuore sagittario la luna di passaggio nel segno oggi amplifica il buon umore e vi regala una giornata di positività in un periodo che vi vede un po tesi e sottoposti a qualche pressione capricorno le questioni economiche di lavoro assumono un ruolo primario siete in grado di comunicare con convinzione le vostre idee e anche le faccende di cuore vi intrigano acquario un quadro astrale benevolo favorisce l'armonia con voi stessi riprendete quota dopo un periodo faticoso e adesso avete requisiti per riattivare progetti accantonati pesci giornata sottotono e nevrotica molte sono le tensioni che si accavallano in questo momento e potreste accusare disagi che consigliano di prendervi maggiormente cura di voi stessi buone stelle